Benvenuti ai nostri cari follower. Un forte terremoto colpisce in mezzo al mare adriatico. Mezzanotte di sabato 5 agosto 2023. Ma prima di entrare nei dettagli, non dimenticare prima di sostenerci con ammirazione per questo video e di iscriverti al canale attivando la campanella su tutte le notifiche in modo da ricevere tutto ciò che è nuovo ed esclusivo relativo alle notizie sui terremoti in Italia. Momento di momento. Se un terremoto colpisce in mezzo al mare adriatico questo sabato sera. Questo terremoto si è verificato a una profondità di 0 km dalla superficie terrestre. Significa che questo terremoto ha colpito la superficie delle acque del mare adriatico. Si è verificato anche nella regione tra l'Italia e la Croazia e in una zona molto vicina alla costa della Croazia. Pertanto, questo terremoto è stato avvertito dai croati più che dagli italiani. Perché il terremoto è stato più vicino alla costa croata che a quella italiana. Secondo il Centro Europeo di Sismologia, l'intensità del tremore era di circa 3 gradi della scala Richter. Questo terremoto non ha causato alcun danno, solo un leggero scuotimento che è durato pochi secondi. Perché è caduto in mare. Ma se nello stesso momento questo terremoto si fosse verificato sulla terraferma, sarebbe stato più potente e violento. E qualsiasi altra notizia importante, vi informeremo in seguito. Finalmente sei in buona salute.